HTC One X, il nuovo dispositivo di HTC, vi faccio vedere la funzione fotografia video e foto, scatti in sequenza uno dopo l'altro e scatto continuo per riprese sportive o per soggetti in movimento salva le foto, ne fa un certo numero, si sceglie lo scatto migliore, si eliminano tutti gli altri e il gioco è fatto grazie